Quando noi abbiamo delle situazioni irrisolvibili, dei problemi troppo grandi per noi, sappiamo che Dio è alla distanza di una preghiera, Dio non è lontano, Dio è vicino a noi e vuole cambiare la nostra situazione. Dio è diventato il mio tutto, mi ha guardato attraverso quella croce, quella croce che ha cambiato la mia vita, ha lavato ogni mio peccato, ha lavato tutto ciò che c'era di enico nella mia vita. Se tu credi con tutto il cuore, se tu ti rivolgi a Gesù, il figlio di Dio, anche tu puoi sperimentare un cambiamento nella tua vita. Grazie a tutti.